Della situazione ILVA e delle criticità e delle urgenze che pendono sullo stabilimento tarantino e di conseguenza sulla popolazione è stato informato nei giorni scorsi da Antonia Battaglia per Pislink e Monica Frassoni per i Verdi Europei, il direttore generale e ambiente della Commissione Europea Daniel Calleia. La commissione è stata aggiornata sulle recenti novità quali il dossier Non toccate quelle polveri realizzato da Pislink e la grande questione aperta dall'aggiornamento dei gravissimi dati sanitari su Taranto presentati dal dottor Francesco Forastiere nell'ambito di uno studio commissionato dal Centro Salute e Ambiente della Regione Puglia. L'aggiornamento dello studio ha messo in evidenza un'importante relazione tra l'aumento di patologie nei giorni in cui l'inquinamento dell'area industriale invade la città. Su Taranto grava pesante l'incertezza delle prossime mosse del Governo che vorrebbe vendere l'ILVA ma che non riesce a gestire le gravissime ed improrogabili questioni che gravano sulla popolazione, hanno affermato gravame e frassoni. È il momento di una scelta a monte senza che altri mesi passino nell'attesa di decisioni che fino ad ora non sono mai arrivate. Fra due settimane inoltre sarà a Taranto una delegazione della Commissione di Petizioni del Parlamento Europeo per un dialogo più ampio sull'assenza di un piano di azione globale per il capologo ionico che stenta a trovare una via di risalita dell'economia.